Dimmi tu. Buon pomeriggio, sono Rosangela del gruppo San Luca Onlus, che si occupa degli eventi del Museo Mast Castelgofredo. Oggi siamo qui per il Tè al Museo, abbiamo la fortuna e siamo felicissimi di avere il nostro ospite Andrea Pezzini, un castellano, un italiano nel mondo. Infatti parte, è nativo di Castelgofredo, ma poi si sposta in diverse città europee fino a stabilirsi in Spagna. Lui ci racconterà e sicuramente sarà un pomeriggio piacevolissimo. Prima però di lasciarci alle bellezze di Ubeda, la città che ha adottato Andrea Pezzini, vi ricordo l'importanza di sostenerci associandovi al gruppo San Luca. Lo potete fare visitandoci al Museo negli orari di apertura, oppure sul nostro sito trovate tutte le informazioni. L'indirizzo è www.mastcastelgofredo.it Adesso lasciamo la parola ad Andrea, nostro gradito ospite, e poi eventualmente ci troveremo alla fine se ci sono domande, quindi mandatele pure e faremo modo di inoltrarle ad Andrea che risponderà anche ai vostri quesiti se ne avete. Un buon pomeriggio, un buon te a tutti e benvenuto ad Andrea. Grazie, buon pomeriggio a tutti e innanzitutto ringrazio tutti voi del Mast e chi lo fate possibile per questa gentilezza dell'esservi ricordati di questo castellano espatriato ormai da più di 30 anni, 35 anni ormai che sono all'estero e casualmente anche mi occupo di cultura, di turismo, per cui c'è qualcosa in comune con il Mast. Giusto dal punto di vista pratico, voglio un po' avvisare a tutti che sarà una raffica di fotografie. Sono fotografo da sempre, ho milioni di foto, e pertanto a base di fotografia, a base di immagini farò questa mia presentazione e commenti su appunto una prima parte, giustamente una breve, chiamiamola biografia, chi sono, da dove vengo, da dove provengo, dove sono cresciuto e in che contesto diciamo culturale, sociale sono cresciuto e poi logicamente parliamo di cultura, parliamo di turismo, parliamo di musei, parliamo di gestione culturale e di eventi. Ecco, pertanto questa sarà un po' la struttura fino a che poi al finale, come ben dicevate, se qualcuno che ci sta vedendo ed ascoltando vuole fare qualche domanda, benvenute sono e le lasciamo per il finale. Ecco, in questo senso allora volevo iniziare con questa foto che è una foto che si vede spesso qua ed appesa in un sacco di locali, di spazi di Ubeda, è un vecchio mercato, fine XIX, inizio XX secolo e sempre che la vedo mi viene in mente quest'altra. Ecco, queste altre due foto che conoscete bene nel Master, giusto nel Bookshop che avete, sono foto di famiglia di fatto, della famiglia Pezzini che per alcun motivo sempre mi relazionano, mi fanno venire in mente un po' questo binomio e questa casualità forse che c'è anche di similità tra Ubeda e Castagofredo. Questi sono i miei nonni materni, ecco, per cui gente di campagna, gente umile logicamente, qui c'è anche il mio nonno paterno che ha fatto la guerra, la prima guerra mondiale, musicista, poi anche Sarto, e da lì viene questa tradizione della famiglia Pezzini e la Sartoria Pezzini. Ecco, qui appunto sono i miei genitori, mio papà purtroppo non c'è più dal 2009, però appunto la Sartoria Pezzini è un classico, diciamo, di Castagofredo. E qua appunto ci sono mio papà e la mia mamma che ancora fa alcuni lavoretti giusto per intrattenersi, per mantenersi attiva in mille modi, e appunto con le piccole riparazioni che giornalmente riesce anche a fare, insomma. E questa è la mia famiglia, giustamente, ben numerosa, anche se purtroppo in questa foto c'è un sacco di gente che non c'è più, sfortunatamente, però è la famiglia, la famiglia Pezzini, la famiglia Euli, ecco, mia mamma è una Euli, qui è giusto il giorno della celebrazione del cinquantesimo anniversario del matrimonio dei miei genitori, e qui c'è anche mio fratello, c'è mia cognata, un po' questa è la famiglia, diciamo, Pezzini attuale, no? Ecco, i pochi che ci siamo ancora, anche se poi c'è un ramo, diciamo, verso i Franzoni, ecco, dove lì c'è mia zia, che poi è la mamma dell'anteriore Regnocco, è Moreno Franzoni, è cugino, per cui abbiamo nella famiglia anche un re, diciamo, no? E poi qua ci sono gli amici, gli amici di sempre, ecco, sono foto delle nostre riunioni frequenti, sempre che si può, logicamente, le nostre cene, soprattutto da Luca, da Luca Castellini, che appunto per la sua situazione, insomma, fa sì che abbia riunito, chissà, ancora di più, ancora più vicini tutti gli amici di sempre. E poi la cena con gli amici di sempre, però con le seguenti generazioni, no? E quindi anche questo è diventato un classico, ogni volta che arrivo a Castelgofredo, la pizza della compagnia che va crescendo, con i ragazzi che vanno crescendo, si fanno sempre più grandi, sempre più grandi, insomma, alla fine sono i più anziani quelli che si mettono davanti in ginocchio e dietro i nostri figli, no? E questa è un po' la piccola storiella, diciamo, con la quale volevo iniziare dal punto di vista soprattutto delle relazioni umane, soprattutto della vincolazione, del vincolo con le persone che è fondamentale. E quest'angolo qua, giusto, sono andato su Google Maps e guarda che foto, mi salta fuori, a sinistra la casa dove sono nato, dove sono cresciuto, a destra l'entrata del Mast e lì c'è praticamente tutti i miei primi vent'anni, sono lì in questa foto, no? C'è la casa, c'è la casa del giovane, c'è l'oratorio, c'è il Grest, c'è la sede degli Scout e c'è anche Radio Alpha, è Radio Alpha che, a proposito, qui c'è quest'altra foto con gli eterni amici Gino e Goffredo che, devo dire, grazie a loro sono anche entrato a Radio Alpha e questa realtà che poi del microfono che ti aiuta anche a comunicare, a toglierti di sopra la paura del pubblico, del microfono, eccetera, e devo sempre ringraziare eternamente questa opportunità che mi si è data quando avevo, non ricordo, adesso 16, 17, 18 anni per poter appunto avere questo programma in radio, grazie anche a Gino e a Goffredo, no? E qui l'altra parte della storia è che finalmente poi con 21 anni praticamente sono partito, sono partito per Londra e qui, vabbè, ero io lavorando, anche se mi si riconosce, però sono io facendo quasi da caccia fantasmi nell'hotel di Londra dove lavoravo con 21 anni e lì c'è appunto una foto di un gruppetto di persone con le quali con alcune tutt'oggi ho contatti. Dopo un paio di anni a Londra sono andato a Parigi con Mark in camion, ho fatto quasi autostop praticamente per fare un'altra esperienza anche di vita professionale anche se vogliamo a Parigi e anche qui di nuovo con la scusa dell'imparare le lingue appunto conosci un bel gruppetto di gente con le quali un bel gruppo di queste persone che ci sono in queste foto sono ancora oggi dei buoni amici. E poi dopo l'Inghilterra, dopo la Francia era il turno della Spagna e la scusa era questa Expo Universale di Siviglia, no? E arrivo a Siviglia nell'anno 90, nel 1990 con la scusa di questa Espo Universale, anche lì conosci gente, ho un sacco di amici, queste ragazze sono ancora amiche mie in questo momento. Conosco Michael che è questo ragazzo del Ghana che poi è diventato il padrino del mio secondo figlio di Miguel che c'è lì a spalle e poi conosco anche altra gente con la quale continuiamo appunto in contatto, siamo ancora buoni amici, però soprattutto conosco Carmen. Ecco qui un po' la colpa diciamo adesso l'adorò a Carmen, questa bellissima ragazza che appunto mi aggancia diciamo e fa sì che ecco quello che era in teoria un'esperienza anche lì di un paio di anni in Spagna è diventata un'esperienza ormai di più di 30 anni, no? E con Carmen abbiamo messo su una famiglia appunto abbiamo quattro figli per cui si apre anche questo diciamo questo braccio no? Della famiglia spagnola e lì appunto sono i figli giocando in cortilo e giocando in via Moratti, no? Ecco che appunto è questa realtà un poco con la quale poi i tempi le cose e le realtà si ripetono e qua i ragazzi che crescono che sono sempre più grandi, adesso siamo nell'epoca delle università ormai si muovono tra i 19 e i 25 anni per cui ci sono altri tipi di problemi al di là dell'infanzia, al di là di tutte queste altre cosucce che possono un po' conoscere un po' tutti quelli che sono genitori insomma, no? Naturalmente sempre che possiamo veniamo in Italia a fare scopacciate di tortelli e giri appunto per Brescia, per Mantova, per i differenti posti bellissimi che comunque ci sono anche nel nostro nord Italia e poi ci sono anche nel senso contrario le bellissime visite di gente, di amici, di Castelgonfredo e non solo che appunto vengono a trovarci a Duber, lì è ormai il classico foto, la classica foto dal balcone di casa sulla valle del Guadalquivir che si affaccia appunto in un posto privilegiato, adesso vi farò vedere qualche altre foto, appunto riconoscerete alcune facce, alcune molto familiari logicamente e in questo senso devo dire che c'è una visita comunque che devo segnalare più che mai adesso in questo contesto di questa piccola diciamo questo tè nel museo, una visita assolutamente indimenticabile alla quale sarò eternamente gradito che è quella che fece la Proloco con l'associazione del Tortello Amaro nel 2013 e questo ha generato ancora delle bellissime notizie, ancora dei bellissimi ricordi appunto che mi trasmette la gente di questa associazione dei Cavalieri della Cuciara de Palo che era il motivo per il quale iniziare diciamo questa relazione, basicamente intorno alla gastronomia e non solo, comunque alla cultura in generale, no? E qua appunto quest'installazione promozionale della provincia di Mantua è qualcosa di assolutamente emozionante che ripeto ancora ancora le agente della Cuciara de Palo me lo ricorda e questo gruppo di persone che sono lì in questa foto sarò eternamente gradito di averlo fatto. Ecco, questo è un po' diciamo una piccola breve introduzione personale, biografica se vogliamo, come poi uno arriva ad Ubeda, no? E il fatto di arrivare a Ubeda, poi casualmente di nuovo tornò a Siviglia, quelle due ragazze lì che stanno studiando nel piccolo balcone di casa loro, erano due studentesse di Ubeda che conosco, erano mie vicine di casa e grazie a loro basicamente inizio a conoscere Ubeda, no? Poi il fidanzato di una di loro che poi adesso è suo marito Antonio, è un cantante, chitarrista in una banda di rock, per cui la parte musicale anche lì è sempre molto attrattiva e alla fine insomma grazie a loro iniziamo a conoscere Ubeda e Antonio finalmente diventa il mio socio nell'azienda che mettiamo su assieme con un'altra persona nell'anno 94. Ecco, dove siamo? Ecco, questa è la cartina della Spagna, vedete appunto l'Andalusia e l'estremo sud della Spagna, la penisola iberica e dentro di questa regione dell'Andalusia c'è la provincia di Jaén, chissà la meno conosciuta delle otto province dell'Andalusia, siamo al nord di Granada, siamo all'est di Cordoba e giusto in mezzo alla provincia queste due cittadine, vedete Baeza e Ubeda, che sono appunto le cittadine dove mi sono installato basicamente Ubeda. Ecco, per cui comunque un posto chissà non così conosciuto, non così popolare. Di fatto nella scorsa diciamo estate, dal punto di vista turistico, siamo chissà stati uno dei pochi luoghi che può dire che non sono andate così male le cose, visto che abbiamo questa fama di sconosciuti, un posto sicuro, con degli spazi immensi, per nulla massificato, ci vive poca gente e per cui un posto da scoprire, dove praticare questo che chiamiamo la turismo figlia contro la turismo fobia, che in alcune altre città eventualmente si può anche generare. Ecco, dal punto di vista delle risorse culturali di questa provincia, staccherei questa strada dei castelli e delle battaglie. La provincia di Haen, per la sua posizione strategica, è stata durante secoli frontiera tra i regni di Castiglia, appunto cristiani, e il regno di Granada musulmano, per cui c'è una concentrazione di castelli, di fortezze assolutamente unica, eccezionale, tra le più importanti del mondo. Poi abbiamo anche un'importantissima realtà archeologica intorno al mondo degli iberici, adesso per non entrare in dettagli, è se vogliamo una civilizzazione pre-romana, ecco, per cui con la dovuta attenzione e prudenza, come se fossero gli etruschi, ecco, senza adesso entrare in dettagli specifici. Poi l'altra cosa assolutamente eccezionale di questa provincia è lo spazio naturale, sono i parchi naturali, abbiamo quattro parchi naturali, un'estensione immensa, uno di loro, quello che c'è nella parte più orientale della provincia, il parco di Cazorla, Segura e Lasviglia, sono circa 215 mila ettari, è il secondo parco naturale più grande di tutta l'Europa, ecco, per cui è assolutamente una goduria, insomma, godere di questi spazi naturali che sono praticamente a mezz'ora di macchina da Ubeda, no? E qua appunto dei paesaggi che chissà chi non ha viaggiato da queste parti, chi non conosce l'Andalusia può essere sorpreso, pensa magari di essere nelle Alpi, invece sei qua nella profonda Andalusia e si possono fare attività di sport attivo assolutamente sorprendenti e impensabili, chissà, per una regione come il sud della Spagna, ripeto. E poi ci sono comunque anche un sacco di acque calme, un sacco di risorse per fare anche gite per l'osservazione del bird watching, oppure animali appunto autoctoni come l'ince iberico, come sono appunto queste capre ispaniche, i cervi, oppure quest'altro rapace che è il gippetto che è stato rintrodotto in questi territori, è qualcosa di assolutamente meraviglioso se appunto qualcuno ama fare questi tipi di gite, di ricerche. E poi i tipici paesini bianchi con il loro castello arabo, insomma questo è Cazorla giustamente, però potrei aver fatto la foto di un'altra cinquantina di paesini di questa provincia e praticamente l'immagine è quasi sempre la stessa, è quasi sempre la stessa. E poi l'altra realtà paesaggistica, culturale ed economica è quella dell'olio d'oliva. Nella provincia di Haen abbiamo circa 66 milioni di olivi, ossia solo la provincia di Haen produce intorno al 20% della produzione mondiale di olio d'oliva, tanto quanto tutta l'Italia. Solo questa provincia produce tanto olio d'oliva come tutta l'Italia. Non entrerò in discussioni sulle qualità e quale è migliore e quale è peggiore, perché appunto è una discussione interminabile, però certamente il paesaggio fa sì che marca l'identità delle persone, dell'economia e della cultura. E poi naturalmente Ubeda e Baeza, queste due cittadine piccoline, Ubeda ha poco più di 35 mila abitanti, Baeza ne ha poco più di 15 mila, per cui poco più di 50 mila abitanti. Sono due cittadine vicine, distanti solamente circa 8-9 km l'una dall'altra e sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2003, fondamentalmente grazie a uno sviluppo rinascimentale eccezionale, assolutamente eccezionale su una realtà comunque araba, musulmana, per cui medievale e su anche delle altre realtà romane, iberiche e anche dell'età del bronzo praticamente, per cui ci sono dei resti archeologici assolutamente eccezionali in questo territorio. È inevitabile generare questa similità tra Ubeda e Baeza e Mantua e Sabioneta. Mantua e Sabioneta, vi ricordo anche, Mantua e Sabioneta insieme sono state dichiarate patrimonio mondiale dall'UNESCO nel 2008, cinque anni più tardi di Ubeda e Baeza, e messo a sognare uno sogna, con un gemellaggio delle quattro praticamente. È una questione difficile, burocratica, è una questione anche di volontà politiche, in questo momento chissà un po' complesso e anche chissà non sia il più opportuno, però anche qua approfitto questa telecamera e questo microfono per lanciare eventualmente il messaggio di far sì che si può fare e tra le altre cose anche perché ci sono dei motivi, ci sono delle connessioni con Ubeda e Mantua e Sabioneta soprattutto. E dal punto di vista anche della promozione, cosa significa essere patrimonio dell'umanità? Vabbè, significa essere in una posizione privilegiata, questo marchio dell'UNESCO evidentemente ti mette nella Champions del patrimonio e poi nel caso chiaro della Spagna c'è un gruppo di città patrimonio dell'umanità dove, devo dire, abbiamo fatto certa fatica a poter entrare, però finalmente una volta dentro la promozione è assolutamente eccezionale ed abbiamo dei compagni di viaggio assolutamente fantastici, voglio dire, ci promoviamo per il mondo con Cordova, con Toledo, con Caceres, con Segovia, con Santiago de Compostela, Salamanca e immagino che sono città anche per chi non è mai stato in Spagna che comunque suonano. E poi attraverso di questa rete delle città patrimonio dell'umanità c'è tutta un'incredibile quantità di, chiamiamoli, promozioni, attività educative, promozionali che non avremmo mai potuto fare da soli. Ecco, per cui questo è assolutamente necessario, eccezionale, ripeto, il formare parte di questa realtà. Alcune foto panoramiche della cittadina, è una cittadina a passeggiare, piccolissima, si va a piedi dappertutto praticamente, ecco per cui non è, diciamo, non c'è bisogno neanche di trasporto pubblico, eccetera. E avete qua alcune foto panoramiche della piazza principale della nostra piazza di Ubeda, la piazza Vasche de Molina, appunto dove adesso c'è questa Cappella del Salvatore della quale vi parlerò un po' più a fondo, c'è poi quest'altro edificio molto italianeggiante che è l'attuale comune e poi la chiesa di Santa Maria che è il tempio principale della nostra città e ancora resti delle mura con queste porte chiaramente d'origine arabo. E poi tra gli altri monumenti importanti, spazi assolutamente ripeto privilegiati, quest'altro è l'ospedale di Santiago, un vecchio ospedale del XVI secolo che è diventato oggi un centro culturale, è il nostro auditorio che ci permette appunto chissà creare ancora più dal punto di vista culturale, avere degli spazi che si prestano all'offerta culturale è naturalmente un privilegio e questo spazio lo è assolutamente. E qua ci sta la biblioteca, ci stanno varie associazioni culturali e soprattutto nell'auditorio che vedete nella foto in basso a sinistra, ecco, c'è capacità per qualche centinaia di persone appunto si fanno un'infinità di concerti e di attività lungo tutto l'anno. E questa è la cittadina di Baeza, siamo a 8-9 chilometri, si può anche andare a piedi se uno vuole, se in forma, c'è anche una via ciclabile, diciamo, adesso che unisce le due cittadini appunto per poterlo fare in bicicletta, anche se ci sono un po' di salitelle non è poi così difficile, ed è una cittadina altrettanto bella con questo palazzo di Cavalchinto, con questa piazza di Santa Maria, la piazza dei Leoni, ecco, questo è il comune di Baeza e la vecchia università, ecco, un altro elemento fondamentale che ha contribuito, diciamo, a questa dichiarazione dell'UNESCO dal punto di vista dell'influenza e della trasmissione di valori e di sapere di entrambi le città, se nel caso di Ubeda, chissà, parliamo un po' più di una questione architettonica e poi di un grande mecenate, del quale vi parlerò tra qualche attimo, nel caso di Baeza staccherei soprattutto l'importanza e l'influenza della vecchia università, una delle prime università spagnole fin dall'inizio del XVI secolo. E poi è una cattedrale, è una cittadina con 15.000 abitanti, c'è una majestuosa cattedrale che si affaccia poi anche questa sulla valle del Guadalquivir. E arriviamo noi, arriviamo noi, perché questa è la mia azienda, ecco, Artificis, il nome viene dal latino, fatto con arte, fatto con mano, però poi abbiamo trovato anche che c'erano anche descrizioni di questo nome e che ci è piaciuto fino al principio e logicamente non è mai stato cambiato dall'anno 94. Ecco, come è iniziato il tutto? Vabbè, attraverso di un corso che fa una scuola atelier, un corso di nuovi prodotti o gestione dei servizi culturali. Ecco, e questo se già con Antonio, quando ci siamo conosciuti a Siviglia, avevamo l'idea di creare un'azienda che facesse qualcosa nel mondo della cultura e del turismo, poi questo corso che appunto abbiamo potuto seguire a Dubeda e ci ha aperto gli occhi in certo modo e ci ha spinto, ci ha stimolato ancora di più per andare avanti. Ecco, ed abbiamo iniziato così, abbiamo affittato questi due locali che erano due, praticamente due garage, separati tra di loro, abbiamo chiesto ai proprietari di poter sbattere giù il muro che li separava e per poter aprire il nostro primo negozio. Adesso sto vedendo quella foto, anche se non mi si riconosce, sono io, vedevo che avevo già usato una mascherina prima del Covid. Ed in questo senso, dire anche qui, lo devo sempre dire con moltissima sincerità, il nostro investimento iniziale per iniziare la nostra azienda è stato di, allora parlavamo in pesetas, ecco, il corrispondente a 20.000 pesetas che più o meno sarebbe oggi circa 120 euro a testa. Ecco, questo è stato davvero il nostro investimento iniziale. Abbiamo avuto un sacco di fortuna, logicamente, amici, familiari che hanno aiutato, però per creare questa azienda abbiamo speso 120 euro a testa. Ed è iniziato come un piccolo negozietto che vendeva artigianato fondamentalmente, articoli da regalo e da lì è iniziata appunto quest'altra idea della diversificazione. Ecco, tutto questo piccolo negozietto, anche grazie a una serie di persone assolutamente meravigliose, generosissime, come sono gli artigiani di Ubeda, che in quel momento praticamente pur di iniziare con queste nostre idee imprenditoriali, ci lasciavano tutti i loro materiali, pezzi, articoli in deposito, ossia me lo paghi se lo vendi. Ecco, perché questo ci ha permesso di iniziare senza fare dei grossi investimenti, insomma. Ecco, e poi nel 2007, già facciamo un bel salto nel tempo, già la cosa un po' è cresciuta, siamo entrati in questa dinamica anche del patrimonio dell'umanità e tutto ha una chiara evoluzione. Ecco, cambiamo sede, ci mettiamo in questa nuova sede, in una casa che abbiamo comprato come azienda ed è un posto assolutamente privilegiato. Ecco, vedete questa è la piazza principale di Ubeda, il monumento, il simbolo di Ubeda, che è quella cappella del Salvatore che abbiamo qui davanti e la casa bianca a destra è il nostro ufficio, è la nostra sede. Ecco, per cui, ripeto, siamo in un angolo assolutamente privilegiato e come sede, appunto, come infopoint di tutte le nostre attività e poi nei piani superiori abbiamo il nostro ufficio, nostra area lavoro, gestione, amministrazione, eccetera, che va più in là, molto più in là di semplicemente essere un infopoint. E cosa facciamo? Beh, fondamentalmente visite guidate, visite guidate alla città di Ubeda, questo è un cartello basico di ciò che facciamo praticamente tutti i giorni, mattina e pomeriggio, però facciamo anche visite per gruppi ben più numerosi, anche perché appunto la nostra offerta è in questa diversificazione che sempre sottolineiamo, c'è un'offerta per individuali e c'è un'offerta per gruppi organizzati e poi una quantità importante di temi differenti che possiamo anche offrire dentro di quello che è appunto la amplia tematica che può offrire un posto come Ubeda, vedi questa specificità sulle strade, sui cammini letterari, la Ubeda cinematografica, si sono girati vari film ad Ubeda, per cui si possono anche fare delle visite guidate intorno a questo tema, poi naturalmente il flamenco, naturalmente la parte notturna, sopranaturale, l'esoterica, la natura, eccetera, eccetera. Sono dei piccoli dettagli di come appunto si possono anche creare prodotti specifici con una tematica specifica, dipende un po' dalla domanda e dai gruppi che te lo richiedono. Torno di nuovo sugli artigiani perché sono un settore assolutamente straordinario ad Ubeda, dai fabbri e ceramisti alla paglia, al carton piede della papi masce, anche le vetrate di piombo, eccetera, però chissà soprattutto il più prestigioso artigianato di Ubeda sia quello della ceramica di origine arabo, praticamente c'è ancora una serie di famiglie che da secoli vive, lavora, produce praticamente gli stessi pezzi come si faceva mille anni fa, anche se comunque c'è una evoluzione logicamente verso una interpretazione diciamo un po' più moderna di questa tradizione. E questi atelier, questi lavoratori li usiamo anche dal punto di vista turistico, in questo caso una di tante esperienze che abbiamo organizzato con un gruppo di Taiwan che abbiamo messo a lavorare lì sul torno del ceramista, li abbiamo messi a decorare i loro piatti e poi tutto questo finalmente glielo cuociamo e glielo mandiamo a Taiwan, ecco, evidentemente ci sono dei costi ai quali far fronte, però c'è chi può e queste cose si organizzano senza grossi problemi. Nel mondo dell'olio d'oliva torno appunto su quest'altra importantissima risorsa che abbiamo davanti agli occhi, non solamente per cui è un'importante realtà economica per la provincia, se no è diventata anche un'importante realtà in promozione turistica, quindi questo olio turismo che fondamentalmente tratta di questo, di visitare delle fabbriche, dei frantoi in funzionamento, si tratta di fare delle degustazioni a volte molto semplici, a volte ben più profonde, a volte con addirittura classi di cucina, bene nelle case rurali, bene in un hotel, bene in una scuola di alberghiera e anche disegnare eventualmente dei menu specifici per gruppi specifici di alta gamma, in questo caso del New York Times che è appunto un cliente abituale con questo tipo di prodotti e sono sorti poi intorno a questo mondo dell'olio d'oliva anche delle realtà museistiche come il fatto del museo dell'olio, il terraolio, il centro di interpretazione dell'olio d'oliva del quale eventualmente vi parlerò un po' più a fondo e questo permette anche andare più in là di semplicemente vedere una fabbrica, come funziona una fabbrica, insomma c'è tutto un concetto anche lì pedagogico, formativo intorno al mondo dell'olio d'oliva e questa è la realtà del centro di interpretazione dell'olio d'oliva giustamente, dove non si tratta solamente di andare a visitare e capire due cose basiche, se no appunto andare un po' più a fondo con le lezioni di cucina e queste degustazioni di oli per essere eventualmente anche formare dei professionisti che riescano poi ad essere quelli che finalmente giudicano gli oli nei eventuali concorsi nazionali ed internazionali sulla qualità dell'olio d'oliva. Abbiamo un trenino, abbiamo un trenino ad Uveda, un trenino per certo fabbrica italiana, treni d'otto ed è una questione, dico sempre un po' sorridendo, che ho fatto molto fatica ad accettare l'idea di avere un trenino ad Uveda, un po' da questo punto di vista, lo dico sempre sorridendo, è un elemento che chissà io relazionavo molto di più con la costa, con delle città da spiaggia o da turismo massivo per cui facevo molto fatica a vedere un treno ad Uveda e poi invece abbiamo provato anni fa e alla fine abbiamo comprato uno perché ho dovuto cambiare chiaramente d'opinione con rispetto a quest'idea, visto che non tutti pensano come me, c'è chi ha poco tempo, c'è chi si muove con difficoltà, bambini, anziani, anche se vogliamo un budget delle risorse economiche limitate per cui il trenino, se vogliamo anche delle inchietudini culturali limitate, per cui un giretto nel trenino con quattro informazioni basiche lungo il percorso che si fa sono sufficienti e si danno per soddisfatti e per cui in questo senso è benvenuto anche il trenino in questa diversificazione delle differenti offerte che possiamo dare. Ecco, poi va bene, questo è un elemento che ci fa molto orgogliosi, ci rende molto orgogliosi il giorno, il 19 d'ottobre, è il giorno mondiale contro i tumori al seno e durante quel giorno da anni tutto il nostro ricavato, tutto il nostro ricavato, il 100% di tutto il ricavato dell'azienda è destinato alla ricerca contro i tumori. Per cui ci vestiamo tutti di rosa, anche il trenino lo imbarattiamo di rosa, insomma giusto per avere questo trello. Va bene. Detto questo, che altri servizi prestiamo? Ecco, diciamo se ci sono tre risorse fondamentali che per noi appunto sono i monumenti, sono la cultura, sono gli spazi museistici, l'olio d'oliva, gli artigiani, il trenino, poi ci sono altri servizi che non in modo chissà quotidiano, però in modo anche questo vogliamo dire frequente, ci chiedono. Chissà il lavoro nel quale io personalmente mi sono specializzato un po', a parte altre cose, è l'attenzione ai media, alla comunicazione, alle televisioni, alle radio, oggi più che mai agli influencers per i socials, per cui insomma uno con gli anni, con l'esperienza e con un po' di faccia tosta riesci anche ad entrare dove normalmente altri non entrano e poi con l'esperienza anche impari a sapere dove ci sono giustamente quei luoghi, quei momenti, quelle ore, quella luce della quale ha bisogno eventualmente un cameraman per fare delle foto e poi logicamente le risorse di nuovo dei mercati, dei produttori gastronomici, delle cucine e eventualmente dei concerti, eccetera, eccetera. Ecco, vi ricordo che purtroppo non è andato in onda, era previsto che andassi in onda verso Natale, poi la scaletta della RAI è cambiata all'ultimo momento e che io sappia ancora non si è emesso questo programma di Dreamroads, che è un programma appunto di strade tra il mondo che da anni si emette nella RAI e in questo caso specifico del loro viaggio per l'Andalusia e l'Estremadura sono passati da Uveda e accompagnati tra l'altro da Franco e Andrea. Non entrerò in dettagli, immagino che molti sappiate di chi parlo, di questo padre e figlio, ecco, e hanno inoltre di aver scritto un paio di libri già, hanno generato un film anche lì molto interessante. non avrei paura di abbracciarmi, credo che si chiami. Ecco, per cui in breve spero si emetterà anche questo programma dove ho contribuito appunto a loro, alla squadra, diciamo, di trovare delle localizzazioni, dei posti dove poter registrare il loro programma. La parte didattica, la parte infantile, la parte dei piccoli quaderni didattici, un'altra parte che ci ha occupato chissà meno in questi ultimi tempi, però sì, in un momento preciso della nostra storia aziendale facciamo questi atelier dello scrivano di corte, dell'architetto, attraverso il gioco, eccetera, eccetera. E poi un altro servizio che prestiamo, che è questo sempre più frequente, il servizio di hostess o di steward, ecco, per eventi culturali di nuovo, per delle fiere, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un altro servizio che prestiamo appunto in generale alle amministrazioni. E poi l'altra parte è quella della promozione. Ecco, costantemente, da sempre, praticamente andiamo a partecipare attivamente nelle fiere, fiere, mi riferisco, mondiali, di promozione turistica, a Londra, Berlino, Milano, non tutti gli anni purtroppo, non possono andare tutti gli anni, però appunto ci sono stati in varie occasioni. e questo appunto è un'altra parte, diciamo, nostra che ci porta a, diciamo, partecipare attivamente della mano, mano con mano, con le differenti amministrazioni. E poi un'altra parte, diciamo, anche questo non succede tutti i giorni, però con frequenza ormai queste conferenze o lezioni che possiamo dare nei vari corsi di turismo delle differenti università in Andalusia. Adesso il prossimo venerdì ne darò una qua nella scuola della Sagrada Famiglia di Ubeda, precisamente nel modulo di turismo. E il prossimo 5 di marzo sarò a Madrid nel Master di Gestione Culturale che fa l'Università Complutense di Madrid, un Master internazionale, con compagni, diciamo, di ponenza, assolutamente fuori di testa, il direttore del Prado, del Thyssen, della Reina Sofia, eccetera, insomma, cose che vanno ben al di là della nostra piccola capacità di lavorare, però insomma il fatto che continuano a chiamarci tutti gli anni vuol dire che quello che abbiamo da raccontare è abbastanza utile e serve anche a chi ci sta ascoltando come stimolo, o eventualmente il vedere come si può comunque sviluppare, come si può essere imprenditori anche in una realtà piccola, perché nel fondo siamo molto piccoli, come quella di Ubeda. E la cultura è un'altra parte che fa grandi differenze ad Ubeda, ecco, un'altra parte che sorprende e a volte uno si chiede come è possibile che ci sia un'offerta culturale così importante come quella che abbiamo. E dico sempre la stessa cosa, se c'è offerta è perché c'è domanda, ecco, per cui c'è una chiara risposta da parte dei cittadini, però la cosa che è ancora più sorprendente sia la gente che fa cultura. Ecco, è incredibile, incredibile la quantità di gente e la qualità dei lavori letterari, musicali, pittorici, scultorici, eccetera, che c'è ad Ubeda. Ecco, in questo caso, vi va bene di nuovo dentro di questa realtà della collaborazione costante, sto firmando lì con la sindaco, questa ragazza qua dai capelli rossi, è la nostra sindaco, e appunto queste convenzioni, questi accordi, questo patrocinio, questa collaborazione con le differenti attività culturali, come gestore di spazi appunto collaboriamo in questo senso con le differenti attività economiche. in questa foto di gruppo lì ci sono un sacco di imprenditori di differenti campi, che comunque collaborano con tutta questa attività. Un'altra per cui questione molto interessante a tenere in conto, la sensibilità che c'è anche da parte della società e dagli imprenditori per appoggiare tutto quel che è la cultura. Faccio due nomi, tra i tantissimi che potrei fare di Ubeda, però ci sono due nomi assolutamente eccezionali che devo appunto citare, uno è questo signore che sta firmandomi un poster, si chiama Antonio Munoz Molina, è nato a 50 metri da casa praticamente, ed è uno degli scrittori più importanti direi in lingua spagnola in questo momento, premio Planeta, che è un po' il premio diciamo più prestigioso letterario della Spagna, è stato due volte premio nazionale di letteratura, è stato principe delle Asturie della letteratura, adesso forse chissà mi sbilanci un po', però direi un futuro premio Nobel di letteratura, è una delle menti lucide in questi momenti così convulsi, diciamo così complessi che stiamo vivendo, leggere a Munoz Molina non solamente i suoi romanzi, se no anche i suoi articoli sulla stampa è assolutamente consigliabile insomma, e lì mi stava firmando questo cartello, perché appunto una volta che ha saputo credo di Mantua, mi diceva, ah ma io sono stato al festival letteratura nell'anno 2000, ecco con sua moglie tra l'altro, quella che adesso è sua moglie che si chiama Elvira Lindo, è proprio qualcuno che conosceva bene Mantova, grazie al festival letteratura, e appunto noi tra i nostri prodotti diciamo turistici, uno di questi è la strada letteraria intorno ai romanzi di Antonio Mugnoz Molina, e quest'altro, questo tipo qua con il cappello bianco, è Joachim Sabina, quello in parte a lui è Antonio, il mio socio, e Joachim Sabina, non so, a volte mi piacerebbe dire che è come se fosse Fabrizio D'Andrè, però purtroppo non è così, è piuttosto come se fosse Vasco Rossi, comunque è un cantautore assolutamente brillante, soprattutto dal punto di vista proprio della lirica, dei versi, ed è estremamente popolare nel mondo di lingua spagnola, Joachim Sabina, credetemi, riempie stadi in America Latina, in Spagna, ed è nato a Uveda, anche qua in questo caso, un altro personaggio assolutamente fondamentale, che di fatto è così popolare che ormai c'è chi conosce Uveda, grazie a Joachim Sabina. Però a margine di questi due nomi che non volevo ovviare, ecco c'è poi tutta un'altra realtà di questa agenda culturale, che si organizza intorno a Uveda in tutti gli ambiti della cultura e delle arti. Non entrerò in dettagli, ecco ci sarà motivo eventualmente in una seconda parte per entrare un po' in dettagli su tutto ciò che si organizza a Uveda, però dal classico flamenco logicamente per la Spagna è inevitabile, a grandi eventi negli spazi pubblici come sono le nostre piazze, oppure appunto anche la piazza dei Toros, o le fiere, eccetera, eccetera, o grandi show, grandi spettacoli di luci e suono ormai che sono diventati anche questi un classico in occasione di importanti celebrazioni. E poi vabbè se c'è da farlo, si fa, ecco anche noi ci travestiamo, insomma lì ci sono mia moglie e mia figlia vestite da dame del Rinascimento, di fatto Carmen madre balla in questo gruppo di danza rinascimentale, che sono molto bravi tra l'altro, molto bravi, e poi se c'è da divertirsi un po', anche noi qua in casa quest'anno, visto che eravamo rinchiusi in casa, c'era da fare un lavoro di fine corso di Miguel, che è il secondo figlio che sta lavorando, appunto, sta studiando pubblicità, fotografia, eccetera, e c'era da fare un lavoro che non poteva fare, per cui con le risorse che eravamo in casa ci siamo messi lì a fare queste riproduzioni di quadri classici, come vedete, e ci siamo divertiti un bel po'. Detto questo, un'altra parte importante dell'azienda, questa della gestione del patrimonio, di cosa parliamo? Parliamo logicamente di patrimonio culturale, di patrimonio monumentale, ed in questo senso la nostra azienda, appunto, da anni è anche, chissà, innovatrice in questo aspetto. Il tutto iniziò con la Cappella del Salvatore, che appunto abbiamo già visto in qualche immagine, poi vi racconterò qualcosa sulla Sinagoga dell'Agua, del Museo di San Giovanni della Croce, e eventualmente salterò altre, perché appunto ci sono troppe cose da raccontare in pochi minuti, insomma. Questa è la Cappella del Salvatore, ecco, dicevo un po' l'edificio più importante ed emblematico della città di Ubeda, dirvi che non è una chiesa, non è una parrocchia, non è una cattedrale, è una cappella funeraria, è un mausoleo, è un pantheon, ecco, ed è privato, è ancora oggi una proprietà privata, quello spazio lì di fronte, appartiene alla Casa Ducale di Medina Cieli, una delle grandi case, case, perdon, nobili della Spagna, con beni e proprietà in tutta la Spagna, e non solo, e sono anche il responsabile appunto di questa Cappella del Salvatore, che vedete è assolutamente eccezionale, ed era praticamente impossibile o non facile entrare a visitarla fino all'anno 99, quando finalmente con questa fondazione Medina Cieli, che sono i proprietari, abbiamo creato questo accordo, questo contratto nel fondo, per poterlo aprire al pubblico, e questo cosa ha generato? Vabbè, vediamo lì quattro punti molto semplici, molto basici, soddisfazione di chi ci visita, c'è uno spazio aperto, abbiamo creato posti di lavoro, prolunghiamo la permanenza di chi ci visita, e pertanto generiamo risorse dirette ed indirette. Noi siamo stati lì praticamente quasi 14 anni, e questa è la Cappella del Salvatore dentro, con questo altare di Berrughete, il figlio di Pedro Berrughete, che è stato per un bel po' ad Urbino, una meravigliosa sacristia, e questa gestione cosa permette inoltre? Generare queste risorse dirette per fare restaurazioni, come è il caso degli affreschi della cupola, come è il caso dei pavimenti, come è il caso dell'organo, come è il caso della ristabilire di nuovo questo coro di voci bianche con l'organista e la direttrice del coro, e anche, perché no dirlo, ristabilire il culto religioso, visto che durante un tempo non c'era neanche il cappellano che celebrasse messa nella Cappella del Salvatore, e poi, tra le grandi importantissime notizie recenti, questa recuperazione del San Giovannino. Questo San Giovannino è un regalo che fecero i medici a Francisco de Roscovo, il promotore, il grande mecenate di questa Cappella del Salvatore, che fece per sé stesso, per essere sepolto, e questo San Giovannino è stato distrutto durante la guerra civile spagnola, come altre moltissime cose, e questo San Giovannino finalmente è stato attribuito a Michelangelo, Michelangelo Bonarroti, per cui, dopo questa, diciamo, attribuzione che si è riconfermata, il San Giovannino, a partire da quei frammenti ritrovati dopo la guerra, appunto, è stato ricostruito e adesso è tornato in Spagna, ve lo avete qua nell'anno 2015, è stato il pezzo invitato del Museo del Prado, ecco, e tornerà a Dubeda. Ecco, in questo momento non c'è ancora uno spazio adeguato per, appunto, albergare il San Giovannino di Michelangelo, però è uno dei progetti fondamentali che ci daranno di nuovo una grandissima promozione, no? Voglio dire, immaginare l'unico pezzo di Michelangelo che c'è in Spagna, che c'è in Spagna è di Ubeda, ecco, per cui, da questo punto di vista sarà interessantissimo poterlo ritrovare anche ad Ubeda. E poi c'è quest'altra importantissima pittura, questo da sinistra è il Francisco dello Scobos del quale vi sto parlando e quello di destra è il famoso quadro della Pietà di Sebastiano del Piombo che regalò un tal Ferrante Gonzaga. Ecco, per cui, la relazione di Francisco dello Scobos con l'Italia, con Mantua in particolare, è molto importante, perché questo signore, nato a Dubeda, morto a Dubeda, che si fece questo mausoleo, questo panteon, questa cappella del Salvatore, era il segretario di Stato di Carlo V, per cui, accompagna Carlo V, purtroppo, non nel terzo viaggio, perché appunto, nel terzo viaggio, Cobos già aveva una certa età e non accompagnò Carlo V, e in questo terzo viaggio è quando Carlo V passa da Castel Goffredo, per cui non c'era Cobos, però negli altri, negli anteriori, si era il suo segretario di Stato, di fatto è presente nella coronazione di Carlo V a Bologna, e si ospita in più di un'occasione a Mantua, nel Palazzo Ducale, e questa relazione, logicamente, di favori, non dimentichiamoci, dico sempre con ironia, che tutti quelli che vogliono arrivare all'imperatore, meglio che siano generosi con il suo segretario di Stato, per cui riceveva generosi regali, vedi il San Giovannino di Michelangelo, vedi questa pietà di Sebastiano del Piombo, che fu un regalo di Ferrante Gonzaga. Non dimentichiamoci inoltre che San Luigi Gonzaga è comunque stato anche nella corte di Filippo II, in Spagna, non dimentichiamoci che Vespasiano Gonzaga, per cui Sabioneta, è uno dei grandi di Spagna, fu vicere della Navarra, di Valencia, ingegnere militare, ha il Toison d'Oro, ecco, per cui questo è un importantissimo ordine che danno i re di Spagna. E tra l'altro, anche un altro regalo interessante, questa fontana che c'è in mezzo alla piazza è una fontana che regali il Senato veneziano a Cobos per il suo palazzo che era dietro la Cappella di Salvatore, però che finalmente finisce lì nel centro della piazza. Parte 2, con rispetto alla gestione del patrimonio, la Sinagova dell'Agua. Ecco, questa è una realtà recente, è uno spazio scoperto ed aperto al pubblico da poco più di dieci anni, beh, ormai quasi undici, è aperto appunto il 27 febbraio del 2010 e in questo caso una cosa sorprendente, in questa vecchia strada, in queste vecchie case di un angolo, di uno scorcio di Ubeda, appunto, un promotore immobiliare compra questi tre immobili, queste tre case per sbatter giù tutto e fare una promozione immobiliare e lì finalmente appaiono, tra l'altro cosa curiosissima, in parte alla casa dell'inquisitore e poi facendo i lavori appaiono colonne, capitelli, archi, tetti, affreschi, cantine, eccetera, e ciò che ci permette appunto vedere è che questa era una vecchia sinagoga sinagoga medievale. Qualcosa di assolutamente sorprendente, eccezionale, con il suo matroneo, ecco, vedete lì, questa cantina che era completamente piena di detriti, finalmente poi si scopre, vedete, per scendere non si sapeva neanche che esisteva, questa scala che scendeva lì sotto terra nascondeva il mikve, il bagno rituale, il bagno di purificazione per gli ebrei, dei quali ne esistono pochissimi in tutta Europa, no? E questo spazio privato appunto ci permette anche di entrare in questa tematica assolutamente ignorata fino a qualche anno fa della Ubeda ebraica, della Ubeda sefardita che inoltre ci ha permesso scoprire che c'erano anche importantissimi personaggi storici, che ci sono varie case appunto di origine ebreo nel centro storico di Ubeda ed addirittura questo documento che mostro qua in questa foto che si conserva a New York è un trattato del Talmud dove specificamente dice che si termina, si conclude ad Ubeda nel 1290. Ecco, per cui ci permette anche questo pensare che inoltre a varie case, inoltre a varie sinagoge, inoltre a personaggi importanti, ci fosse anche una scuola talmudica alla fine del XIII secolo. C'è un evento assolutamente eccezionale, alcuni amici che mi staranno vedendo, ascoltando, hanno vissuto questo momento eccezionale del solstizio estivo, anche perché in questo mikve, in questo bagno rituale, consideriamo che potesse essere uno spazio neolitico, uno spazio praticamente per rituali preistorici. Ecco, vista la morfologia, visto il disegno, come se fosse un dolmen preistorico. E succede questo durante il solstizio estivo a fine giugno e questo ci ha permesso anche di organizzare tutta una serie di eventi eccetera, eccetera intorno a questa storia. Ecco, e poi la sinagoga dell'acqua è diventata anche uno spazio culturale disponibile per presentazioni letterarie, teatrali. Ci sono già due romanzi nel mercato con il titolo La sinagoga dell'acqua. Di fatto, giusto il 14 marzo dello scorso anno quando abbiamo dovuto chiudere è quando si doveva presentare questo secondo romanzo con il titolo Sinagoga dell'acqua e purtroppo non è potuto farsi e vedremo adesso se nei prossimi tempi la situazione ce lo permetterà fare, insomma. E poi i festival di racconta racconti, concerti, la relazione con il festival internazionale di musica e danza, la relazione con la mostra di teatro, la relazione con l'incontro internazionale di poesia, la relazione con il festival di musica antica, il festival di flamencos i mestizos e gruppi che hanno registrato il loro disco nella Sinagoga dell'acqua con il titolo La Sinagoga dell'acqua e naturalmente poi la parte diciamo vincolata alla storia, alla cultura, tutti gli anni ricordiamo questo giorno in memoria dell'olocausto, delle vittime dell'olocausto che tutti conoscete si sta commemorando e si è fatto anche quest'anno nel comune di Castecolfredo e in molti altri posti, ecco però appunto è qualcosa che non lascia indifferenti neanche a noi e da lì che cerchiamo tutti gli anni di organizzare questo evento intorno a questo giorno in memoria delle vittime dell'olocausto e poi la parte ebraica pur non essendo una sinagoga diciamo con una comunità non c'è un rabbino e lo concepiamo dal punto di vista culturale, storico, turistico però è comunque uno spazio dove ebrei già da tutto il mondo vengono anche a volte per pregare, per celebrare alcun momento speciale nel calendario ebraico questa è la festa della Pasqua per esempio la festa della Hanukkah la festa delle luci quella delle capanne e addirittura c'è chi appunto si è convertito si ha usato il bagno di purificazione come potete vedere in queste immagini e abbiamo anche addirittura celebrato un matrimonio una coppia di Barcellona è venuta ad Ubeda a sposarsi nella sinagoga per la sinagoga ecco e qui vedete appunto questa immagine abbastanza insolita e impensabile che c'è qualche anno fa e tutto questo anche sfocia in una realtà gastronomica ecco la cucina tipica di Ubeda mai avrebbe pensato incorporare introdurre questi piatti tipici sefarditi e in questo caso questa novità questa scoperta ci ha permesso anche di introdurre questa realtà di organizzare le giornate di cucina sefardita ecco e con conferenze con presentazioni con show cooking eccetera eccetera e questa è un po' l'immagine assolutamente insolita e impensabile fino a qualche anno fa insomma sono questi gruppi che vengono ad Ubeda motivati dalla sinagoga dell'acqua questa immagine a volte sembra che sei a Gerusalemme invece no sei ad Ubeda ecco e queste immagini appunto ripeto erano impensabili qualche anno fa questo è l'ambasciatore dell'Israele questo è l'archeologo della città vecchia di Gerusalemme insomma realtà che hanno poi generato anche letteratura libri ricerche eccetera eccetera ecco non voglio adesso estendermi molto perché vedo che già ho poco tempo e ci sono molte altre cose da raccontare passa tutto questo in modo molto veloce d'accordo e la diffusione di questa sinagoga dell'Aguan anche a livello internazionale qui siamo in Inghilterra siamo in Francia siamo nel Jerusalem Post siamo in Svezia qui in Dinamarca qui nel New York Times qui nella rivista di Tour Espagna per 50.000 agenti viaggi della Germania e le nostre presentazioni a Fitur nella fiera internazionale celebrando i nostri 5 i nostri 10 anni e poi nei social eccetera eccetera tutto questo lo passo velocemente visto che insomma non è così interessante a parte poi i documentari in televisione eccetera che sono frequenti ecco passo questa parte velocemente per finalmente salterò anche questa idea del palazzo dello Solvidado Sagranada d'accordo perché volevo parlare giusto per andare un po' più avanti di questo museo di San Juan de la Cruz interessantissima figura San Giovanni della Croce fondamentale riformatore religioso e poeta poeta mistico il patrono dei poeti spagnoli e c'è un museo dall'anno 1978 a Duveda gestito dai propri padri carmelitani che comunque non sono più capaci di gestire nel senso che sono sempre meno sono sempre più anziani e da qualche anno pur essendo ancora un luogo di culto un luogo spirituale con la casa di spiritualità dove si fanno questi esercizi spirituali di diversi ambiti di formazione anche a volte con la mente direi molto aperta verso altre culture vedete corsi di meditazione zen per dire in un convento di carmelitani però nonostante tutto c'è anche un museo un museo perché è il posto dove muore San Giovanni della Croce dal 13 al 14 di dicembre del 1591 sono 12 sale un museo assolutamente fantastico ricchissimo in contenuto in oggetti in tematica ed è un luogo ripeto che ha bisogno appunto di una spinta e lì appunto stiamo lavrando con i carmelitani per poter diciamo mettere nel nel posto che corrisponde un museo di questa importanza di questa influenza ecco appunto documenti originali con la firma di San Giovanni della Croce alcune prime edizioni dei suoi libri e tra l'altro una figura assolutamente nonostante parliamo di una figura del sedicesimo secolo una figura attuale molto attuale molto contemporanea avete le interpretazioni che fanno alcuni artisti moderni o del ventesimo secolo questo famoso quadro di Salvador Dalì è il quadro ispirato da San Giovanni della Croce e vabbè a parte le restaurazioni e le donazioni che costantemente riceviamo e se no appunto c'è tutta un'attività culturale e anche moderna intorno alla alla figura di San Giovanni della Croce e mi sto rendendo conto che mi resta pochissimo tempo mi permettete salto un po' tutta questa parte vabbè non vorrei lasciare quest'altro perdono ecco nella Semana San Juanista da più di 40 anni si organizza una settimana culturale intorno a San Giovanni della Croce e due anni fa il concerto inaugurale è stato una cosa di assolutamente fantastico anche qua uno di quei momenti emotivi indimenticabili dove il cantico spirituale di San Giovanni della Croce è stato portato in musica da Cecilia Vettorazzi ed interpretato dal coro polifonico della città di Rovigo dalla nuova Accademia degli Addornetati e sono venuti dall'Italia a giustamente inaugurare la settimana San Juanista di un paio di anni fa un momento ripeto assolutamente eccezionale ecco e poi tutta una serie di conferenze intorno a questa figura di San Giovanni della Croce ecco passerò velocemente tutte queste altre cose e se qualcuno è interessato in conoscere qualcosa di più o leggere qualcosa di più con rispetto a San Giovanni della Croce e Santa Teresa di Avila Santa Teresa di Gesù ecco non dimenticatevi che San Pietro in Oliveto a Brescia è la chiesa praticamente sotto il castello ed è Carmelitani Scalzi e lì c'è anche una bella c'è un interessante bookshop dove si può incontrare di tutto ecco mi salto non so se mi state seguendo appunto dalla regia salto tutta una serie di questioni con rispetto alla chiesa di San Lorenzo e la sua recuperazione la sua inaugurazione temevo appunto andare ben oltre i tempi concessi tutta questa parte la lasceremo per una seconda parte dimmi scusa no 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 va benissimo è interessante di sicuro organizzeremo un altro momento forse ti conviene andare sulla parte ultima che vuoi presentare e poi chiudiamo ma ci ripromettiamo di incontrarci una prossima volta senz'altro perché è stato tutto molto interessante corretto ho iniziato con la parte più importante e basica non volevo appunto lasciare questa parte e poi qui lasceremo per un'altra parte l'aspetto diciamo collaborazione e lavoro in serie con altre società e con le amministrazioni perché questa relazione interessante vista dal punto di vista dell'azienda privata dell'ambito imprenditoriale di come comunque le collaborazioni possono anche portare a sviluppare degli interessantissimi progetti e questa diciamo altra parte diciamo di volontariato anche perché faccio comunque un sacco di volontariato nelle varie associazioni imprenditoriali di promozione del turismo finisco finisco con questo breve dato con rispetto alla provincia di Caen comunque è una provincia che riceve ecco meno del 2% del turismo dell'Andalusia per cui mentre qua parliamo di una grandissima importantissima destinazione mondiale dal punto di vista turistico ripeto come avevo iniziato siamo un posto comunque sconosciuto poco frequentato per nulla massificato tutto da scoprire e dove in nessun momento c'è questa sensazione di massa o dover far coda per andare da qualsiasi parte ecco e poi con una distribuzione lungo l'anno vedete anche se ci sono i nostri picchi di alta e bassa stagione comunque c'è una distribuzione di questo turismo culturale per trimestri che è praticamente omogenea e una valutazione da parte dei visitanti che ci dà 8,6 su 10 che è una valutazione per cui molto alta molto soddisfattoria per tutti e la realtà qual è? è che in questi 25 anni 27 anni che sono qua sono sorti queste scuole l'università la scuola di turismo eccetera in un modo assolutamente eccezionale voglio dire che si è visto come il turismo e la cultura sono un'importante industria e di sviluppo anche di benefici per la società solamente questa è la lista degli alloggi che abbiamo a dubeda quando io sono arrivato c'erano due alberi adesso ne abbiamo più di 20 a livello di aziende come la mia eravamo gli unici eravamo i primi non c'era nessuno assolutamente nessuno in questa provincia che facesse le cose facciamo noi adesso ci sono 10 aziende solo a dubeda musei aperti ce ne sono una quindicina voglio dire questo è frutto giustamente del lavoro dell'evoluzione anche un po' di fortuna se vogliamo però c'è dietro un sacco di lavoro per far sì che questo sia una realtà ecco e poi quest'altra questione così concettuale se vogliamo che è questa cosa genera una visita al museo di San Giovanni la croce cosa genera una visita alla sinagoga dell'agua minimo che poi intratteniamo qualcuno minimo un'oretta per cui minimo stiamo generando un caffè nei bar vicino ai nostri musei una visita guidata a dubeda che dura una mattinata dura un pomeriggio minimo genera un pranzo o una cena e se vediamo le due città evidentemente questo minimo genera una notte di albergo per cui insomma sono quelle cosucce che mi piace molto sottolineare e grazie anche a questa magnifica squadra di gente siamo un gruppo grande siamo un'azienda di un certo peso importante anche complicato adesso mantenere tutti senza pericoli nei loro posti di lavoro però appunto è una grandissima soddisfazione tutto quello che abbiamo e mi permettete concludere con quello che avevo postato sul mio facebook italiano quattro anni fa il 14 ottobre del 17 è quando ho aperto il must e mi permetto leggerlo di nuovo perché l'ho riletto l'altro giorno l'ho ritrovato e mi sembra ancora molto molto attuale e per cui mi permetto questa lettura per finire con questa presentazione e dicevo appunto che bella storia anche se mi trovo lontano mi sento molto emozionato il 14 ottobre del 2017 sarà un giorno importante per la storia di Castelgofredo finalmente si inaugura il must chi l'avrebbe mai detto un museo storico artistico a Castelgofredo voglio innanzitutto fare i complimenti alle persone che con tanto impegno costanza e lavoro ci hanno creduto e lo hanno reso possibile senza dimenticare le istituzioni che lo sostengono ed un bel gruppo di piccoli e grandi benefattori che hanno contribuito via crowdfunding però soprattutto in questi tempi difficili e dopo aver letto alcuni commenti negativi sulla situazione sociale ed economica castellana vorrei dirvi che la cultura maiuscolo è un importante e fondamentale investimento per il futuro non solo socialmente in termini di identità ed orgoglio cittadino ma anche economicamente in quanto a creazione di posti di lavoro diretti ed indiretti e per dinamizzare un centro storico agonizzante la capacità di lavoro dei castellani è straordinaria la volontà di fare cose assieme è eccezionale vedi quante diverse associazioni ci sono la creatività è altrettanto fantastica alcune manifestazioni castellane Tortello Amaro Libri sotto i Portici Regnocco sono già consolidate e molte altre si possono aggiungere ed avere obiettivi ancora più ambiziosi che vanno ben più in là dell'ambito locale oggi è il primo giorno del must e voglio esprimere il mio sentito augurio di successo e soddisfazione già da domani ci sarà da far fronte alla gestione sostenibile alla continuità da dare all'iniziativa sicuramente ci sarà la possibilità di crescere con nuove incorporazioni nuovi spazi espositivi ed è per quello che mi permetto di andare proprio in là di questo aspetto storico sociale, culturale ed economico fondato sul turismo e la cultura la mia esperienza in una cittadina del sud della Spagna negli ultimi 24 anni mi ha dimostrato che è possibile ed è una realtà dove oggi il turismo e gli eventi culturali sono quasi una quotidianità grazie ai quali riceviamo migliaia dei visitatori all'anno quando sono arrivato c'erano due alberghi adesso ne abbiamo una ventina i vari dei ristoranti nel centro storico si sono moltiplicati le iniziative in servizi turistici sono cresciute e diversificate i monumenti musei e centri di interpretazione aperti ed accessibili ed in tutti i casi ed in tutti i casi con imprenditori locali lavoratori locali e prodotti locali vorrei sottolineare poi i necessari obiettivi didattici pedagogici di tutte queste iniziative che oltre all'educazione per i più giovani permettono flussi di visitatori durante la settimana non solo weekend e festivi dire Castelgofredo è dire calze ricordo che molti anni fa già si parlò di un museo della calza mai realizzato nonostante le difficoltà del distretto della calza la collaborazione pubblico privato può generare abbondantemente le risorse per renderlo possibile e messo a sognare l'apertura e la gestione del palazzo a Cervi Gonzaga metterebbe Castelgofredo in una situazione privilegiata viva Castelgofredo viva il Mast grazie Andrea scusate mi sono steso un po' più là questo è dedicato Corrado chiaramente Corrado è nel cuore di tutti noi Corrado è l'anima di questo museo comunque Andrea ti ringraziamo per il bel pomeriggio diamo appuntamento a tutti alla terza domenica di marzo per il prossimo te al museo sperando di ritornare nel frattempo forse in presenza vediamo comunque ci diamo appuntamento alla terza domenica del mese prossimo per il prossimo te ti ringraziamo tantissimo per la tua bella presentazione per il calore che ci hai messo e speriamo di entrare in contatto presto di nuovo con te ciao Andrea e grazie grazie a tutti benvenuti benvenuti tutti a dove tantissimi hanno mandato dei saluti per te li troverai direttamente sotto il video troverai tutti i saluti tantissimi Castellano ancora qui e da fuori ti mandano tanti tanti saluti vai pure a vederteli a goderteli grazie ciao grazie a tutti ciao ciao grazie a tutti